benvenuti qui al millennium partita tra dark shadow islam pub valevole per la seconda giornata di coppa calcio in avanti dark shadow posizione da centrocampo però nel destro grande parata del portiere non molto difficile questa parata però la limita prova col destro parata del portiere molto difficile lasciate riparte capezzuto capezzuto riparte capezzuto capezzuto prova il destro non va azione personale di capezzuto ci prodotto capezzuto dalla distanza prova il destro avevano pensato il portiere che però di matteo per di matteo nino a nino a nino la mette dentro per di matteo rete di matteo dentro dacshadow la mettono dentro rete esposito numero 4 1 a 1 islam pub trova il pareggio dacshadow esposito sulla palla la mette dentro parata del portiere sulle pericolosa per il dacshadow romano 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 grande parata del portiere che avvita il 2 a 1 per gli slump up siamo qui con il migliore in campo esposito di dacshadow avete raffaffato questa partita con le uve con i denti cosa ne pensi ma è stata una partita disorganizzata da parte nostra il nostro capitano sta infortunato ha provato a giocare per mezz'ora ma quando la diamo palla in profondità non ce la fa quindi purtroppo la nostra punta di diamante la partita è andata così troppi difensori oggi ma ce la siamo calati si vede che abbiamo grinta come squadra dobbiamo migliorare l'avanti nel secondo tempo siamo andati vicino alla vittoria però è stato un buon secondo tempo ma sempre non abbiamo giocato molto di grinta sbagliato dobbiamo far girare palla purtroppo ci manca il nostro gioiello l'avanti tu hai fatto la prima parte della partita in difesa poi sei andato in attacco e hai trovato il gol come è questa scelta quando è andato in avanti sapevo che lo potevo fare con un po di grinta all'avanti sulla cattiveria purtroppo i nostri i nostri compagni di squadra ci manca un pizzico di cazzima per segnare più già non per giocare ma bene così un buon punto grazie sposto ciao ciao